bentornati su my football jersey vediamo quest'altra maglia storica stupenda del barcellona per la stagione 2016 2017 questa è la seconda maglia in edizione fan la maglia ovviamente di messi a ero e 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 Maglia spettacolare, bellissima, dal vivo questo tono di viola, il nero, le rifiniture in rosa fanno di questa maglia un vero secondo me capolavoro, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, il costo l'avete visto, tempi di spedizione molto buoni, questa è arrivata in 23 giorni e di un'ottima qualità, lasciatemi nei commenti le vostre opinioni e fatemi sapere quale altre maglie vorreste vedere, prima di salutarvi iscrivetevi al canale, per oggi è tutto Grazie a tutti!